Nasce il gruppo Diamante della pubblica assistenza all'Avvenire di Prato, che conta già 20 volontarie e quasi tutte attive. Si tratta della rinascita di quello che in passato è stato il gruppo femminile e che oggi si apre alla partecipazione anche degli uomini. Abbiamo deciso di chiamarlo Diamante perché Diamante è un termine innanzitutto neutro, perché noi accoglieremo all'interno del gruppo anche uomini che desidereranno condividere i nostri obiettivi. E poi Diamante perché riflette un po' quello che è l'animo delle donne, brillante, poliedrico, che si diversifica in ogni occasione. Gli interventi principali del gruppo Diamante si concentreranno in particolare nella consegna di pasti caldi e sul fronte del volontariato sociale. Il gruppo Diamante si allarga quella che è la risposta di tutte e tutti alla città, a una città che ha bisogno, che siano donne, che siano bambini, che siano anziani. Non è così scontato. Io credo che la ricchezza di questa città, che è anche un po' prontolona, sia invece quella di rimboccarsi le maniche e di mettersi insieme a aiutare. Grazie. Grazie.